Con questa prova riservata ai cavali di due anni non vincitori in carriera, premio Cincerina all'1 Victor Per, Paolo Romanelli al 2 Verdicchio Get, Raffaele Forino al 3 Viburno De Beauty, Gianpaolo Minucci al 4 Vasari, Davide Di Stefano al 5 Videale Fass, Mario Minopoli Junior al 6, Victoria Lake, Vincenzo Luongo al 7, Vardar Falu, Antonio Di Nardo. Seconda fila per il numero 8, Victoria Secret UR con Giuseppe Pistone. Problemi dietro la macchina per Verdicchio Get che di fatto si elimina, cavalli che vanno agli ordini start, macchina che va per staccare in questo istante. Si porta al comando, perlomeno prova, Videale Fass con all'esterno Victoria Lake, Videale che è il leader dopo 100 metri di corsa nei confronti di Vasari che è rientrata a Victoria Lake, quindi Victor Per a precedere Viburno De Beauty. Così a metà della piegata si va a esaurire il primo quarto di gara con il gruppo già disposto in fire indiana con la sola eccezione di Viburno De Beauty che cerca la risalita per linee esterne 30 e mezzo il passaggio ai 400 metri. Intanto nelle retrovie continua a sbagliare Verdicchio Get. Viburno che va all'attacco di Videale cerca di sopravanzarlo ai 600 che vanno via in un 46 con andatura che si è tutto sommato abbastanza ammorbidita. Ora è Viburno al comando, Videale in schiena, poi ancora Vasari, tutto questo al paletto di metà gara, percorso sul piede dell'1-1-1 e qualche cosa con sempre al comando Viburno. Poi Videale quindi più indietro il tentativo di tenere la posizione di Vasari, il chilometro in 1.17 appena abbondante da parte di Viburno che continua a condurre. Ora Videale che accenna a scoprirsi in mezza corsia e si va così all'imbocco della piegata conclusiva con Viburno al comando, Videale che insegue 1.33 scarsi tre quarti di miglio con Videale che ora ha preso decisamente la via del largo. Più indietro c'è ancora il tentativo da parte del numero 8 Victoria's Secret. Tettato e passato Videale e Fass nei confronti di Victoria's Secret che ora accenna l'attacco negli ultimi 150 metri di corsa, Videale Fass alla comando, Vittoria che insegue più indietro anche Victoria Lake nel finale si distende, Videale Fass viene a concludere mentre per il secondo è ancora Victoria Lake che riesce ad avere la meglio su Victoria's Secret UR. Io ho 2-3 qualcosa sul mio cronometro 2-3 e mezzo per il tempo del vincitore, Videale Fass anzi a vincitrice 1.17 appena abbondanti la media al chilometro. Ecco le immagini con Mario Minopoli Junior che viene a concludere agevolmente mentre per il secondo è probabilmente Victoria Lake che ha la meglio su Victoria's Secret. I colori sono della scuderia Safra Fass, il tren ovviamente del team Minopoli.